Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il popolare conduttore televisivo Marco Liorni ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi, parlando della sua esperienza alla conduzione dell'eredità nella scorsa stagione. Liorni ha ottenuto ottimi risultati di ascolto, dimostrandosi più che soddisfatto del suo lavoro. L'esperienza acquisita con il programma precedente, Reazione a Catena, è stata sicuramente di grande aiuto. Tuttavia, Marco Liorni ha confessato di avere difficoltà a guardare il suo vecchio quiz show, non ha specificato i motivi di questa avversione, ma ha fatto un mezzo complimento al collega Pino Insegno, che lo ha sostituito con successo. Questo lascia intendere che il problema potrebbe non essere legato alla persona che ha preso il suo posto. La nuova stagione dell'eredità tornerà in onda il prossimo novembre, ma Marco Liorni non sta certo con le mani in mano. Il conduttore sta lavorando a un nuovo progetto, di cui per ora non ha rivelato i dettagli. Secondo voci di corridoio potrebbe trattarsi di qualcosa legato alla radio, che è sempre stata la sua grande passione. Insomma, Marco Liorni si conferma come uno dei volti più amati della televisione italiana, pronto a stupire ancora una volta il pubblico, con nuove sfide e progetti interessanti. Resta solo da attendere con trepidazione le novità.